Buongiorno, mi chiedono alcuni chiarimenti sulla situazione che si sta passando in Bolivia. La spiegazione è questa. Dopo il processo elettorale, già il giorno dopo, gli osservatori internazionali dell'organismo degli stati americani, OEA, avevano registrato una serie di irregolarità nel conteggio e nei dati che i computer del Tribunale elettorale stavano gestendo rispetto al risultato delle elezioni di domenica 20 ottobre. Altre istituzioni private che avevano seguito il processo elettorale e stavano seguendo attraverso volontari lo spoglio, potevano vedere che la distanza tra il primo partito e il secondo era di 4,5 punti. Era importante questo perché si sapeva che per tutta una serie di situazioni concrete e non sempre legali il partito di governo avrebbe avuto una maggioranza. Però se la distanza tra i due era inferiore al 10%, questo avrebbe portato a uno spareggio in dicembre in un processo elettorale tra i due e questo era sicuro che sarebbe stato vinto dall'opposizione. Il lunedì sera il Tribunale elettorale ha smesso di dare i dati di prima mano quando la distanza tra i due partiti era di 4 punti e poco più, meno di 5. Compressione internazionale e nazionale ha ripreso il martedì sera già definendo il risultato dove il partito di governo aveva vinto le elezioni con 10,4% di vantaggio sul secondo. Statisticamente non era possibile in quanto mancava il 17% degli spogli elettorali e di questi una buona parte era comunque delle città e delle zone rurali erano una parte minore, poteva variare percentualmente di 2-3 punti ma non di più di 10 punti e quindi era evidente già dai primi segni dell'analisi del giorno martedì 22 che c'era stato un processo fraudolento delle elezioni gli osservatori internazionali l'avevano avvallato e quindi la cittadinanza si è messa in strada ha bloccato le strade. Nonostante questo il Tribunale elettorale il giovedì ha dichiarato vincitore il Presidente il quale ha festeggiato mentre la cittadinanza ha aumentato le sue proteste e questa è stata la situazione che ha portato all'impasse attuale. Il giorno di ieri, il mattino, sono arrivati i dati ufficiali dell'indagine degli organismi degli stati americani, dell'OEA. Il giorno precedente l'impresa che era stata incaricata di supervisare a fare la supervisione, l'auditor del processo elettorale, pure lei aveva dato dati inequivocabili che era stato un processo fraudolento. Su questa prima posizione la gente e i comitati civici avevano chiesto il ballottaggio e il Presidente aveva rifiutato di fronte alla dichiarazione di frode e hanno chiesto la rinuncia del Presidente. L'altro giorno la polizia si è rifiutata di uscire a sbloccare le strade e si è dichiarata ammottinata con il popolo. La sera dopo i militari si sono richiusi nelle caserme, gli altri comandanti nazionali delle forze armate, aeree e fluviali hanno dichiarato che gli era stato richiesto di andare a detenere la polizia e tirare sui blocchi stradali e si sono rifiutati, salvo che il governo mettesse l'ordine per scritto e firmato dal Presidente e da tutti i ministri, cosa che il Presidente ovviamente non ha fatto e quindi si sono rifiutati di andare a sbloccare il Paese. Ci sono stati alcuni momenti di tensione e di scontro, la gente che stava venendo a La Paz si è vista accerchiata da gruppi del partito di governo. La cosa più grave a Villa Villa l'altro giorno dove sono stati assaltati i pullman di giovani che andavano a rafforzare le proteste, direi proprio in questo caso democratiche, e sono state almeno 30 feriti ieri mattina mentre i minatori da Potosì venivano alla città di La Paz per continuare alla protesta democratica, sono stati oggetto di spari, di cecchini a distanza dalle montagne, quindi gente professionista, armata e questa è la cosa preoccupante che sembra che si sia gestato da parte dello stesso governo un'azione sospettosa di una resistenza, di nuclei di resistenza distribuiti nel Paese e soprattutto legati alle fasce affini al governo o di gruppi comunque affini al Presidente. Certamente il Presidente ha rinunciato, ha rinunciato il Vice Presidente, ha rinunciato la Presidenza del Senato, ha rinunciato la Presidenza della Camera dei Deputati, quindi in questo momento si deve svolgere un'azione costituzionale di successione e si stanno studiando i meccanismi da parte dei partiti dell'opposizione, dei movimenti civici e di alcune autorità civili che sono rimaste nel carico e questa è la situazione. Certamente la Fiscalia o il Pubblico Ministero con la documentazione avuta dagli organismi internazionali ha cominciato un'azione di detenzione dei membri del Tribunale elettorale, la parte del gruppo nazionale è già stato detenuto a fine di indagini perché comunque la frode elettorale è un delitto costituzionale di gravità e si sta procedendo a fare la revisione di tutte le irregolarità che sono emerse e stanno vari mandati di cattura a gente che ha collaborato in questa grandissima frode elettorale talmente grande da essere impossibile da nascondere. Non si tratta di un tema di un partito o dell'altro né di un colpo di Stato, direi piuttosto che aver tentato di installarsi nel potere attraverso il fraude elettorale, credo che questo sia un segno di una rottura dell'istituzionalità e ha un danno decisivo e grave alla democrazia. Il Paese sta vivendo momenti difficili anche perché la polizia chiusa nelle caserme e l'esercito che non esce a pattugliare ha permesso atti di vandalismo, atti di vendetta da una parte e dall'altra e anche momenti di saccheggio che hanno messo in pericolo e sta mettendo in pericolo la situazione. Per pressione sociale sembra che oggi la polizia inizi a mantenere un lavoro di pattuglia nelle città. Certamente è ancora una situazione alquanto incerta perché il Parlamento comunque in Camere Congiunte devono accettare le rinunce che si sono succedute e dopo il Presidente e il Vicepresidente sono arrivate denunce di vari dei ministri, non lo zoccolo duro di appoggio al Presidente, però di vari ministri, di vari governatori, sindaci che stanno rinunciando e cariche pubbliche che stanno rinunciando al loro incarico. Quindi c'è una situazione alquanto delicata. Ci sono anche voci di assessori militari stranieri, esattamente si indicano le voci della Caglia e delle strade, indicano assessori dell'orientamento politico dell'ex Presidente Evo che starebbero assessorando movimenti di resistenza armata. e questo non è verificabile. Certamente è però preoccupante che i fatti di ieri evidentemente ad opera di cecchini con capacità militare e con armi di tipo militare di precisione lasciano intendere che non è improbabile l'ipotesi. Le istanze internazionali credo che possano aiutare in questo processo di verifica e essere chiari che non si tratta di un colpo di Stato. La conferenza episcopale con le forze politiche ieri lo ha dichiarato apertamente non è un colpo di Stato, è una resistenza democratica a un'enorme frode elettorale che cercava di mantenere installato nel potere e nel controllo di tutta la nazione il Presidente e tutto il suo gruppo politico. Si tratta di questo. La situazione comunque intanto è in evoluzione e chiede a tutti di essere attenti e di non lasciarsi ingannare da false notizie né allarmanti né da sottovalutare. Grazie.